buongiorno 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 a tutti da ovviamente sempre vincenzo penna investire.biz e siamo di nuovo qui lunedì mattina 17 aprile con la rubrica la consueta rubrica della mattina appunto caffè mercati mi sposto subito molto rapidamente sul sito di investire.biz proprio per ricordarvi che ovviamente qui all'interno del sito potete visionare tutte le news giorno dopo giorno ogni volta ogni giorno vengono scritte nuove news dalla nostra redazione oltre a questo vi voglio ricordare l'appuntamento di stasera ovviamente il consueto appuntamento del webinar del lunedì stasera come come tutti lunedì come tutte le settimane alle ore 18 qui vi potete scrivere per l'appuntamento di stasera detto questo mi sposto sul calendario economico e vediamo come nella giornata di oggi non c'è particolarmente diciamo non ci sono news particolari particolarmente interessanti oltre al discorso del presidente della bc lagarde vedremo un po cosa dirà però più o meno diciamo siamo non ci sono novità che di cui potrebbe parlare quindi non mi aspetto nulla di particolare dai mercati alle 17 sicuramente ci sarà un po di volatilità però a livello algoritmico ma nulla di più poi vediamo martedì mercoledì lo andremo a vedere sicuramente nei giorni a venire forse l'evento più importante della settimana sarà l'ipc della gran bretagna quindi è ovviamente anche quello su base eurozona su base europea quindi vedremo mercoledì soprattutto per quanto riguarda le news oggi mi voglio spostare un po sul grafico del germany 40 quindi del dax vi voglio far vedere il dax dove è arrivato su base settimanale su base settimanale praticamente abbiamo stiamo anzi stiamo facendo visita finalmente a quelli che sono i massimi storici in area 16.300 16.100 150 all'incirca attualmente il prezzo si trova su aura su area 15.890 15.900 all'incirca e quindi praticamente da qui fino ai massimi storici vediamo che siamo all'incirca ad un 2.5 per cento quindi come dicevamo anche negli episodi precedenti del webinar oppure negli appuntamenti precedenti per quanto riguarda dirette e quant'altro il dax pare proprio aver trovato forza per ritornare a quelli che sono appunto i massimi storici quindi come possiamo sfruttare questa ipotesi di fondo per la nostra operatività ovviamente non su weekly ci spostiamo prima di tutto sul daily per vedere quelle che sono delle zone un po più forti per quanto riguarda i supporti e sono andato a notare proprio questa zona interessantissima qui di rotazione che appunto tra area 15.300 e area 15.200 e questa praticamente rappresenta l'ultima o meglio la penultima area di forte supporto dalla quale poi il prezzo ha rotto ed è partito con forza quindi da quest'area in poi il prezzo ha praticamente fatto un 4.5 per cento che non è affatto non è affatto poco quindi come potremmo operare potremmo operare o a ritracciamento anzi soprattutto a ritracciamento o in questa zona qui che vi ho tracciato molto molto difficile vista la forza ovviamente che sta avendo il sottostante oppure su base 4 ore magari per chi vuole essere un po più aggressivo ho visionato l'ultima zona di rotazione sul 4 ore che appunto tra prezzo 15.600 e 15.000 15.590 all'incirca quindi tutta questa di prezzo qui sarà un'area fortemente interessante per riacquisti sia magari da parte nostra qualora dovessimo valutare operazioni long sia ovviamente da parte della maggior parte degli operatori sui grafici quindi ricapitolando entrata long visto che comunque target come vi ho detto sono i massimi storici innanzitutto 16.085 è l'ultimo l'ultimo praticamente massimo fatto segnare su base giornaliera eccolo qui eccolo qui quindi 16.085 primo target ultimo target ovviamente massimi storici in area 16.300 e per quanto riguarda appunto l'entry quindi l'entrata long ve l'ho detto due entrate una più aggressiva in zona 15.630 all'incirca un'altra meno aggressiva in area 15.270 all'incirca stop loss ovviamente da posizionare sotto quest'area di forte accumulazione ovviamente non lo spostiamo qui sotto perché sarebbe avremo un risk reward totalmente a nostro sfavore quindi vado a prendere quelle che sono state l'ultima l'ultima zona praticamente di demand che ha effettuato il prezzo su base 4 ore quindi all'incirca 14.950 lo vado a mettere leggermente più sotto quindi sulla zona di 14.920 quindi questa è l'operatività per quanto riguarda questa questa mattina sul DAX ovviamente visto che l'indice è un po più forte che abbiamo siamo andati a prendere in considerazione per quanto riguarda la vicinanza appunto ai massimi storici detto questo come sempre vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti vi raccomando iscrivetevi al webinar di stasera ciao